Re Desiderio, l'ultimo re Longobardo. Desiderio, nato a Brescia intorno al 720, fu l'ultimo re Longobardo d'Italia. Regnò dal 757 al 774, anno in cui fu sconfitto da Carlo Magno e Deposto. Desiderio proveniva da una nobile famiglia Longobarda. Era figlio di Ermenulfo, duca di Brescia, e di una donna di nome Teodota. Il suo nome, che significa e desiderato, era un segno del desiderio del padre di avere un figlio maschio. Desiderio iniziò la sua carriera politica come duca di Tuscia, una delle province più importanti del regno Longobardo. Nel 756, il re Astolfo morì senza eredi. Papa Stefano II, che temeva un'invasione franca, propose Desiderio come nuovo re. Desiderio fu eletto dai nobili Longobardi e fu incoronato a Pavia il 26 marzo 757. Desiderio era un sovrano abile e determinato. Cercò di rafforzare il regno Longobardo e di difenderlo dalle mire espansionistiche dei Franchi. Nel 768, sposò Ansa, la figlia del duca di Benevento a Recchi II. Ansa era una donna intelligente e astuta, che contribuì a consigliare il marito durante il suo regno. Nel 768, Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve, divenne re dei Franchi. Carlo Magno era un ambizioso sovrano che mirava a conquistare l'Italia. Nel 771, Carlo Magno sconfisse il re dei Franchi orientali, Desiderio di Baviera, e unificò il regno Franco. Carlo Magno era determinato a conquistare anche l'Italia. Nel 773, invase il regno Longobardo. Desiderio si oppose con coraggio all'invasione franca, ma fu sconfitto nella battaglia di Pavia del 774. Desiderio fu deposto e imprigionato a Corbie, in Francia, dove morì poco dopo. La sconfitta di Desiderio segnò la fine del regno Longobardo in Italia. Carlo Magno divenne il nuovo sovrano dell'Italia iniziò un periodo di dominio franco che durerà per oltre due secoli. Desiderio come sovrano. Desiderio fu un sovrano abile e determinato. Cercò di rafforzare il regno Longobardo e di difenderlo dalle mire espansionistiche dei Franchi. In politica interna, Desiderio si sforzò di migliorare l'amministrazione del regno. Introdusse nuove leggi e riforme, cercando di rendere il governo più efficiente e giusto. In politica estera, Desiderio cercò di allearsi con altri poteri europei per contrastare la minaccia franca. Nel 768 sposò Ansa, la figlia del duca di Benevento Arecchi II. Ansa era una donna intelligente e astuta, che contribuì a consigliare il marito durante il suo regno. Desiderio fu anche un patrono delle arti e della cultura. Sostenne la costruzione di chiese e monasteri e promosse la diffusione dell'istruzione. Desiderio nella storiografia. Desiderio è stato un personaggio controverso nella storiografia. Alcuni storici lo hanno visto come un sovrano illuminato, che ha cercato di modernizzare il regno Longobardo. Altri lo hanno visto come un sovrano conservatore, che ha cercato di preservare l'antico ordine Longobardo punto indipendentemente dalla valutazione del suo operato. Desiderio è stato un personaggio importante nella storia italiana. La sua sconfitta segnò la fine di un'epoca e l'inizio di un nuovo periodo. Grazie a tutti.